Stupidi personaggi nel film horror, muoiono sempre e subito, sono così stupidi, io sono troppo figo e forte e bello per morire, me ne andrò io in un bosco di notte a fare una passeggiata, non può mica capitarmi nulla no? Ah una bella pisciatona, questo ma io non filmarlo però, ma io zoomare. Vedrà le scale. Ah! DJ DJ! Devo metterlo su Instagram, è assurdo. Bella pisciata. Guardiamo un po' che video sono venuti. Cos'è quello? Oh cavolo che cos'è? E' mostruoso. Meglio andare via. Eh sì sì. La torcia della mamma mi picchia, peggio i mostri. No, no, mi succhia, mi succhia, me sta succhendo. Mi succhia. Ho leo! Ho leo! Oh stos baiatodono. Oh ma è Sàfria! Grazie a tutti